Noi, che la vita ci ha fatto capaci e forse anche più fortunati, abbiamo il dovere di restituire qualcosa a chi si trova nel bisogno. Così il Vescovo di Fanno Armando Trasarti domenica scorsa all'inaugurazione di Ricibiamo, un centro situato in Via Piave, e che è parte del progetto biennale Meno Scarti, Più Cibo e Lavoro. Finanziata con fondi CEI 8x1000 della Caritas Italiana e della Fondazione 7 Novembre, la nuova struttura fungerà da magazzino per la raccolta, lo stoccaggio e la redistribuzione di prodotti alimentari e beni di prima necessità, per poi destinarli a persone in situazioni di difficoltà socio-economica. Inizialmente il centro andrà a sostituire la distribuzione di pacchi cibo, attualmente distribuiti nella sede della Caritas di Ocesana, e successivamente il servizio verrà aperto ai soli utenti inviati dal centro di ascolto. In futuro invece non si esclude la possibilità di sperimentare la realizzazione di un emporio solidale di genere di prima necessità e di prodotti per l'infanzia. Questo è solo una parte del progetto che prevede comunque anche l'educazione nelle scuole, alla sobrietà, al recupero, che prevede anche il coinvolgimento di una cooperativa di tipo B, quindi per persone anche svantaggiate, che prevede anche l'utilizzo di persone e utenti stessi nell'aiuto a utilizzare e raccogliere questi prodotti, e allo stesso tempo anche una finalità ambientale che è quella di sottrarre dei prodotti che andrebbero comunque in discarica. Presenti all'inaugurazione il sindaco Massimo Seri e l'assessore ai servizi sociali Marina Barniesi, il direttore del Banco Alimentare Marchiollus Roberto Zangheri e Michele Altomini, coordinatore del progetto per conto della cooperativa Gerico, il quale ha annunciato la collaborazione con l'Ocean di Fano nel giro di un mese. Infatti partirà il recupero di prodotti alimentari anche nell'ipermercato di Bellocchi, dove verranno effettuati tre ritiri settimanali. Attualmente abbiamo visto che sono in crisi le richieste anche da parte di tanti italiani, per la prima volta hanno superato il numero rispetto alla popolazione straniera che vive sul nostro territorio. Bisogna recuperare, sensibilizzare e recuperare razionalizzando tutti quei flussi che sono dei donatori, che sono fra le associazioni che si occupano di questa distribuzione, per evitare anche abusi da parte di chi passa da più punti. insomma. 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 Grazie.